Ha interrotto le scuole superiori dopo il triennio perché gli impegni sportivi si facevano troppo pressanti, inconciliabili con lo studio. A 20 anni l'esordio in Coppa del Mondo, a 32 una volta ritirato si ha voluto tornare sui banchi per conseguire il diploma e riprendere un percorso interrotto. Ecco perché oggi da imprenditore l'ex discesista azzurro dell'Alta Valle Pietro Vitalini plaude Alvaro presso l'Istituto Superiore Alberti di Bormio di un'offerta formativa su misura per i giovani talenti degli sport invernali che devono poter conciliare sport e studio senza rinunciare a nessuna di queste due attività preziosa per la loro crescita. Sicuramente è una cosa interessante, anzi direi bellissima proprio perché effettivamente c'è l'esigenza di una scuola creata appositamente per avvalorare l'attività sia scolastica che quella agonistica. Secondo me oggi mancava e i dirigenti hanno lavorato molto bene per portare in Valtellina una scuola atta all'iniziativa di agonismo come ho detto prima. Dare una preparazione agli studenti è un modo per prepararli meglio anche ad affrontare gli impegni sportivi e le sfide future della vita e della professione? La scuola è sempre stata importante, è importante anche proprio per lo sportivo perché gestire l'attività agonistica bisogna avere tanta tanta intelligenza e soprattutto educare i studenti a gestire sia l'attività scolastica che appunto quella agonistica è importante e questo è proprio una scuola che ci deve portare a valorizzare appunto l'atleta per un domani che diventerà un imprenditore oppure anche lavorerà nel settore. Come ho detto è una scuola di montagna quindi gli studenti diventeranno degli operatori che resteranno in montagna, non bisogna assolutamente abbandonare la montagna e questo è una cosa che fa pregio a questa scuola proprio perché gli atleti e gli studenti rimarranno in loco.